Buongiorno a tutti, tra i molti luoghi legati a Leonardo da Vinci in Lombardia forse quello più curioso è la vigna. Ma Veronica perché Leonardo aveva una vigna nel cuore di Milano? Leonardo ha vissuto molti anni nella città di Milano al servizio del duca Ludovico il Moro ma come noto a tutti gli nacque in Toscana e visse i suoi primi trent'anni proprio proprio in questa terra egli proveniva dunque da luoghi ancora oggi celebri per la coltivazione della vite e questo lo sapeva bene il suo mecenate che gli regalò nel 1498 una vigna grande ben sedici pertiche che Leonardo amò e curò profondamente. La vigna si trovava lungo la quale corso Magenta Milano subito oltre la proprietà della famiglia Tellani quindi si tratta di un vero e proprio dono. Benissimo ma come è possibile che ne possiamo vedere questa vigna 500 anni dopo la morte di Leonardo? Ecco è possibile ancora oggi visitare la vigna in quanto nel 2015 c'è stato un progetto scientifico che ha visto la collaborazione di vari enti privati e pubblici per la ripiantumazione della cosiddetta vigna di Leonardo. L'attuale proprietà insieme a Confagricoltura e alla Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Milano ha isolato del materiale organico presente all'interno del del terreno e risalendo dunque al ceppo della vite ovvero la malvasia di cambia aromatica che per l'appunto è stata ripiantumata. So che nella vista che ci propone alla vigna ci condurrai anche tra le stanze della casa degli Antellani. Che cosa potremmo vedere? Sarà possibile visitare una delle case rinascimentali di Milano, una delle rarissime presenze di questo periodo. Si tratta proprio di casa dell'Ani, una residenza che Ludovico il Moro donò ad uno dei suoi più fedeli e stretti collaboratori ovvero Giacometto della Tela. Questa casa verrà ovviamente decorata, abbellita e venne abitata dai discendenti di questa famiglia fino al XVII secolo. Nel 1900 la casa venne poi acquistata da Ettore Conti e restaurata del portalubi e al suo interno è possibile vedere ambienti meravigliosi come ad esempio la sala soggetto astronomico oppure lo studiolo interamente in legno dove appunto riceveva i suoi ospiti Ettore Conti. Inoltre è possibile durante il percorso di visita anche visitare il bellissimo giardino dove appunto è stata ripiantumata la famosa vigna. Benissimo quindi mi pare che questo sia assolutamente un luogo da vedere per tutti gli amanti dell'arte e perché vuole conoscere un luogo particolare del centro di Milano. Va bene vi aspetto qua in vigna di Leonardo.